Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Sono Filippo e sono qui con uno spacchettamento un po' particolare perché sto per aprire questo regalo che mi ha fatto Mary. Io inizialmente non volevo aprirlo, volevo tenerlo chiuso in collezione perché fa figo vederlo chiuso nella teca, però prevedo anche già i commenti no ma se lo tenevi chiuso fra due o tre anni, sì ok va bene, non mi interessa nel senso non vado a fare questo tipo di ragionamento perché lo sapete io sono un collezionista mi piace spacchettare, mi piace avere le carte, non mi interessa prendere mille oggetti uguali prendendo tipo 7 per tenerli chiusi, per poi iniziare a rivenderli, quando non mi interessa quindi insomma un po' come le tin che portai verso inizio anno circa, quelle con Vaporeon e tutte le evoluzioni che vanno dentro appunto il pacchetto evoluzione XY e tutti a dirmi no ma se le tenevi chiuse, sì ho capito ragazzi, però non voglio neanche avere quel tipo di mentalità nel mio canale, almeno non faccio questi ragionamenti io personalmente poi rispetto chi li fa, se qualcuno ha questi pacchetti nella tipo 20 e li tiene lì perché aspetta che aumentino di prezzo massimo rispetto per lui, non giudico però non è neanche quello che io voglio fare, qua intanto c'è il vostro codicino bello ovviamente le due carte di Crobat, quindi io ringrazio Mary per questo bellissimo regalo comunque indipendentemente da quello che troverò dentro qua c'è la carta Jumbo, anche se trovare un secondo Charizard quello non mi farebbe schifo la collezione l'ho praticamente quasi completata mi manca giusto una gold e due baby shiny mi dico sempre devo recuperarle, devo recuperarle e poi ogni volta mi dimentico di farlo perché sinceramente non ho fretta di recuperare delle carte che mi mancano quindi insomma, però ne approfitto magari qua dentro trovo qualcosa, qualche pezzo che può mancarmi qua, carta codice per cui insomma, magari questa espansione fra uno o due anni, forse anche un po' di più potrà valere effettivamente qualcosa ma ripeto, non è la mia idea di comprare, immagazzinare e rivendere Buizel, Floazel e Manaf mi ha un trittico d'acqua eh, eh, vediamo se solitamente Mary ha sempre avuto la mano fortunata anche nei spacchettamenti che facciamo Versus che torneranno anche quelli non vi preoccupate eh, ma, eh, un attimo tricca 4, sì, stavo per andare sul 5 ma, eh, insomma beh che sono 8 buste però, insomma, Mary, dai, ti prego eh, eh, eh eh, Buizel Rowlet tra, sì, qua andiamo uh, questo mi mancava blib e tra l'altro guardate com'è rovinatissimo su, guardate qua guardate, è veramente rovinato su guardate qua eh, veramente veramente sotto no ma su è è rovinata Dio santo vabbè vabbè eh probabilmente se la gradassi non sarebbe un 10 sarebbe un 8 probabilmente per per com'è rovinata sopra l'importante è che non si rovinino che non siano rovinate le carte quelle proprio quelle proprio rari quindi Charizard le gold su Ikun qui ne ho solamente uno quindi eh droppare un secondo su Ikun non mi farebbe schifo guardo un po' più veloce perché tanto le carte le avete viste mille salse del magno tipo 700 sì perché questa è perfetta e quell'altra no che mi mancava perché questa è perfetta vaffanculo va allora la tipo 700 del mais talmente tante che potrei fonderle insieme e creare una coperta grande naturale per coprire me che sono 1,80 allora carta codice qua allora vediamo energia buio rotom cramorant scudo yanma morpeco ciutol ivi orsi coffin e zarude il mojo jojo questo è il mojo jojo del super chic abbiamo ancora tre buste pacchetto ma meglio collezione molto sotto tono quindi meri complimenti per la pessima scelta di carte poverina non è neanche colpa sua perché insomma ah tra l'altro questo video esce lunedì e fin qua ci siamo giovedì è il 7 wow bravo filippo bravo e qual è la differenza la differenza è che l'8 quindi venerdì mi dovrebbero arrivare il pacchetto del 25 parte del 25esimo di di pokemon dell'espansione nuova no che io ho preordinato quindi cosa preferite dovrebbe arrivare il venerdì lasciamo perdere giovedì e lo spacchettamento passa sabato solo in via eccezionale oppure giovedì vi porto delle buste singole e e lo spacchettamento quello e il pacco del 25esimo cominciamo da lunedì o volete già vederlo sabato perché fatemelo sapere perché se mi dite no guarda filippo preferiamo aspettare sabato e avere le carte delle 25esimo allora io il pacco mi arriva venerdì registro e sabato esce il video se invece mi dice mi dite no guarda filippo ci basta anche lunedì non toglierci il giovedì perché il giovedì senza spacchettamento noi non viviamo allora io giovedì vi faccio uscire delle buste comunque flozzel dartrix morpeco orsi spinnerack è molto importante questa cosa quindi mi raccomando fatemi sapere due carte solo mamma mia che brutto pacchetto Mary magari qua c'è Charizard e questo salva tutto fatemi sapere perché è molto importante perché se io non sento pareri io faccio di testa mia e quindi schippo giovedì e vado a sabato però è anche giusto che mi facciate sapere la vostra perché io comunque poi vi ho avvisato e quindi allora energia fuoco che poi magari qualcuno non guarda tutto il video non ascolta quello che dico e lì non posso farci niente raga non è non è colpa mia spiii lapras uh beh dai beh dai ce l'avevo già però lapras è caruccia bella 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 dai due otto buste tre carte di cui una un po' rovinata quindi un po' mi dispiace un del mais che ne ho a buttare e un lapras poteva andare meglio mi dispiace però insomma probabilmente ecco adesso mi arriverà chi mi scriverà nei commenti se la tenevi sigillata ci facevi il triplo di quello che è troppo qua dentro probabilmente avete ragione però ripeto io non ho questo tipo di ragionamento negli spacchettamenti quindi ragazzi grazie per avermi seguito vi ricordo di commentare condividere iscrivete al canale e fatemi sapere appunto quello che ne pensate se fare giovedì con dei pacchetti singoli e aspettare lunedì oppure partire a bomba già sabato quindi fatemi sapere la vostra noi ci vediamo ad un prossimo video ciao ragazzi